Quest'anno ripartono, come tutti gli anni, i corsi della Bottega della Musica. Sono corsi di strumenti musicali e canto rivolti a tutti, bambini e adulti, dai sei anni in su. Il Villaggio del Ragazzo è sempre considerato la musica come un momento aggregativo ed educativo insieme e conta molto sull'insegnamento appunto dello strumento e sull'aggregazione data dalla musica d'insieme. Quest'anno, dopo la pandemia, ricominciamo a vederci anche per inaugurare i corsi, quindi tutti insieme, nel nostro Salone Open Music, venerdì 14 ottobre alle ore 17.30, avremo un piccolo momento musicale così regalatoci dai nostri insegnanti e poi l'inaugurazione dei corsi, quindi con la possibilità di iscriversi. Gli insegnanti che abbiamo quest'anno, quindi ai consueti Riccardo Caorsi per la batteria, Paola Baratta per pianoforte, tastiere, fisarmonica e canto e Gabriele Delle Piane per il basso elettrico, si è aggiunto il nuovo arrivo che è Adriano Fontana, bravissimo chitarrista per la parte di chitarra classica ed elettrica. I corsi sono, come ho detto, rivolti a tutti, bambini ed adulti, si svolgeranno nella fascia pomeridiana qui nelle nostre sale al Villaggio. Invito di nuovo tutti, quindi rinnovo l'invito per venerdì 14 ottobre alle ore 17.30 presso l'auditorium e il salone Open Music qui al Villaggio per prendere contatto con la nostra scuola e magari cominciare un nuovo cammino insieme. Buona musica a tutti!